La campagna può ridare ossigeno a imprese e famiglie superando la stasi generata dal blocco della cessione dei crediti che sta fossando il super bonus per l'edilizia, cavallo di battaglia di 5 stelle. A spingere per la definizione di una legge campana che possa aggirare l'ostacolo è il consigliere regionale Gennaro Saiello, espressione del movimento di Grillo, primo firmatario di una proposta legislativa che investe l'aula del centro direzionale. Il governo centrale ha abbandonato migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori al proprio destino, ha depotenziato una misura che era al 110% portandola al 90%. La regione campagna può fare la sua parte in questo discorso acquisendo direttamente questi crediti, sbloccando tutto il meccanismo dando ossigeno a delle imprese che ad oggi sono ferme, bloccate. Soltanto nella città di Napoli abbiamo 800 condomini e 4.000 case con cantieri bloccati perché le aziende non hanno la liquidità per poter andare avanti. È una situazione che genererebbe disoccupazione e fallimento di tantissime piccole e medie imprese e non ce lo possiamo consentire. Quindi ci auguriamo che la regione campana De Luca calendarizzi questa proposta il prima possibile. Le risorse bloccate nei cassetti fiscali che le imprese della nostra regione non possono più convertire in liquidità si avvicinano ai 5 miliardi. La soluzione dei 5 stelle è stata già attuata in altre parti d'Italia, come ci ricorda il vicepresidente del Movimento alla Camera dei Deputati, Agostino Santillo. La regione campagna può seguire l'esempio della regione Sardegna. In questo caso questo fondo che all'inizio è di circa 100 milioni di euro sarebbe comunque un fondo che si va non solo a rimbinquare dall'esterno ma anche internamente si compensa perché la regione potrà comprare crediti che sono incagliati, crediti di imposta che derivano da bonus edilizzi e li può usare per esempio in compensazione per pagare gli F24 delle sue spese per i dipendenti sanitari. Questo è un esempio.